Negli armadi e cassetti ormai si ha quasi di tutto, la voglia e il desiderio di comprare qualcosa durante i saldi però c'è, rimane e molti faticano a resistere, dall'acquistare una t-shirt o un pantaloncino, un vestito o un costume. I saldi attirano ancora nonostante si faccia magari più fatica a far quadrare i conti e arrivare alla fine del mese e ieri sera a Bolzano con l'iniziativa Late Night Shopping hanno preso il via ufficialmente i saldi estivi. Più che soddisfacente la partecipazione, le vie del centro così come i negozi con il passare delle ore si sono riempiti di gente. Certi hanno voluto solo sondare il terreno, osservare i prezzi e farsi una passeggiata, altri invece avevano già in mente che acquisti fare e cosa cercare. Diversi negozi partiti già con il 50% di sconto da subito, altri invece hanno optato per il 20-30% per poi arrivare a sconti più alti verso la fine delle svendite. Come sempre abbigliamento e calzature in cima alla lista dei desideri di chi attende le svendite per fare acquisti.